Punto numero 12. Comunicazione relativa alle variazioni e alle dotazioni di cassa. Esercizio 2021. Daniele Valentini. Grazie. Allora, come voi sapete, le variazioni di cassa del bilancio di previsione sono di competenza della Giunta e devono essere solamente comunicate, non votate dal Consiglio. Sostanzialmente noi con questa variazione, che è del 4 maggio 2021, quattro giorni dopo aver approvato il bilancio consultivo, siamo andati a riallineare i conti della cassa di previsione con quelli risultati dal conto consultivo. Quindi di fatto è semplicemente un riallineamento, è un documento, un'azione tecnica, ecco, sostanzialmente. Tutto qua. Direi che andiamo invece al punto 13. Grazie. Grazie.